Blocca, se io metto la mente nel braccio, quindi se lui mette la mente nel braccio, il braccio si sente, quindi si può bloccare, lo riesce a bloccare, adesso toglie completamente la mente, la mente si sposta e lui non sa più dove si trova, blocca, blocca la mente, come se facessi una volta, non farlo girare. pushando la mente nel braccio, tremendo la mente sul braccio, sentite una mano a non, nonpresa la mente, la mente il destro è qui, perfetto? ho troppo bene la mente FIRSTONAR . Grazie.